In qualche modo possiamo provare, anche in qualche modo capire, anche venendo, perché poi non c'è mai nulla di più. Un concetto molto bello che diceva già le passarelli, c'è bambini e adolescenti che vivono in povertà assoluta. Ma un dato che mi hanno molto colpito i recenti dati dell'Ista, 10 milioni, che non hanno nella loro vita un libro al di fuori in quei dei, diciamo, previsti alla, cioè significa privazione di tutto quello che mi era in famiglia. E allora io credo davvero la sventura di passare del testo, come dire, per essere veramente che ci vogliono soldi, ci vogliono denari, sono davvero il bisogno, non solo a Gioia Costarelli, ma grazie. Una sede così prestigiosa, questo lo ringrazio, lo ringrazio a nome dell'associazione. Per il ritardo, con quale risultato, da anticipare almeno una prima parte, intanto perché senza entrare nel merito, perché immagino che voi, pensando semplicemente, è più ampio, perché io appreguisco il film dell'Italia contemporanea rispetto al quale da molti anni collaboro. è quella di Leda Colombini che...